Se mai un velivolo sconosciuto dovesse entrare nel nostro spazio aereo nazionale, cosa succederebbe? E cosa succederebbe anche se un velivolo conosciuto uscisse fuori dalla rotta stabilita? I voli che sono controllati e quindi che hanno presentato un piano di volo strumentale, così viene definito nei particolari tecnici, non possono alterare la loro rotta e la loro quota senza aver ricevuto un'autorizzazione dal controllo del traffico aereo. Quindi è evidente che ogni volta che un pilota ha un'esigenza di modificare o la rotta o la sua quota di volo, deve chiedere un'autorizzazione fino a che questa autorizzazione non è rilasciata, non può allontanarsi dalla rotta precedentemente autorizzata e ricevuta. Qualora noi dovessimo osservare sui nostri schermi radar una traccia che non è associabile a nessun piano di volo e quindi inaspettata, immediatamente avvisiamo i nostri colleghi della difesa aerea che possono, se necessario, essere ritenuto opportuno, anche far scattare le procedure atte ad intercettare gli aeromobili sconosciuti. Aeronautica e DENAV tengono sotto controllo i cieli italiani 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno, con una copertura radar totale. I controllori civili lavorano fianco a fianco con quelli militari. Per questo motivo la procedura d'allarme è così rapida. Non so che quota volino e non... Aerei di lì, non penso che volino più bassi dei minimi. Se vede che la visualità è buona, allora non lo so, perché comunque per noi è tutto regolare. Non so, sul centro abitato volano andando a lista per andare da quelle parti. Non è che io devo stare a parlare con lei in questo momento, sono già stato oggettivo a rispondere. Bassissimo e relativo, per cui 110 è una minima IFR e le potete curare che quegli aeropani, quelle categorie che volano a quelle quote, si corrisponde a 3.500-4.000 metri. Allora adesso non è... Magari stanno con l'IPA, io non... Potete curare che quelli che sono con Milano stavano nelle minime, gli altri lì sopra non lo so. Ancora voli segreti nei cieli d'Europa? C'è ancora un rischio rendiscio nel vecchio continente? Nei giorni scorsi la Gioi TV, un'emittente commerciale slovacca nel suo notiziero, mostra un misterioso verivolo sulle piste dell'aeroporto di Bratislava. Si prego di attendere in linea, la chiamata è stata lasciata in voltata. Non c'è la compagnia aerea che si sorvola adesso. No, aerea che fatene arrivare, se arrivare un aereo piccolo fanno le prove di pilotaggio. Normalmente, sì, dovrebbe essere quello, però... Perché il cargo non è che va avanti e indietro continuando, fanno le prove di pilotaggio sicuramente. Mi stava partendo in quel momento uno da cargo, però quello arriva una volta o due alla settimana. Poi parte e arriva lo stesso giorno, però al limite si vede due volte. No, probabilmente è un aereo che fa le prove di pilotaggio, quindi non risulta. Quindi non viene registrato da noi come aereo che arriva in partenza. Devi mantenere la nomimato. Il ragazzo che ha trovato questo strano oggetto sembra proprio la punta di un aereo, anche se la foto scattata da un telefonino è un po' fuori fuoco. Con un codice e un numero di matricola impresso sulla base. Facendo un controllo su internet ho visto che questa azienda che c'è impresso in marchio su questa carcassa fa fabbrica carlinghe per aerei militari. Militari e civili litigano e gli aerei restano a terra. Nel cielo del nord-est si combatte una guerra di soldi e burocrazia con un risultato surreale, la chiusura dello spazio aereo. Dal primo giugno la Lombardia orientale e il Veneto sono vietati ai velivoli da turismo italiani e stranieri. Anche i voli di linea sui aeroporti come Verona subiscono forti ritardi con grave danno per le compagnie. In questa zona il traffico è diretto da uomini radar militari forniti dall'aeronautica. L'ENAC, ente aviazione civile controllato dal Ministero dei Trasporti ha preso atto della protesta dei militari con questo avviso ai naviganti ha proibito il volo a vista e tagliato quello di linea. Un altro dirigente dell'ENAC che vuole restare anonimo definisce la decisione dei militari intempestiva e li accusa per il fallimento di ogni trattativa ma in pubblico la stessa ENAC ha accettato la chiusura senza farne un dramma. Risultato dello scaricabarile, il cielo resta vietato le compagnie aeree chiederanno i danni e i piloti privati hanno già presentato una denuncia internazionale. Questo è un provvedimento assolutamente mai visto in un paese civile ed è già stato oggetto di censure da parte dell'organizzazione internazionale ed inoltre è un provvedimento che costringe e obbliga a procedure di volo a passa vuota estremamente pericolose e speriamo che questa questione venga risolta in pochi giorni o addirittura in pochi ore. Ovviamente ci sono anche dei voli che non fanno richiesta di usufruire del servizio di controllo del traffico aereo volando in spaziali cosiddetti non controllati e principalmente sono dei voli in VFR quindi voli con le regole a vista dei quali noi potremmo anche non conoscerne il piano di volo perché non è così richiesto. È una norma che garantisce la massima volabilità dello spazio aereo nazionale anche da parte da volo da diporto o da turismo. Ciao! Grazie a tutti